A Teosceni, in luoghi pubblici per un minorenne pakistano, è scattata la denuncia. Accaduto ieri pomeriggio ad Ascea Marina, il ragazzo era seduto dinanzi ad un bar antistante lungomare cittadino. Ad un certo punto è iniziato a toccarsi nelle parti intime. Di fronte a lui era seduta una donna di circa 30 anni. Quando la signora si accorta dei gesti del ragazzo, si è alzata, allontanandosi subito dal locale. Il ragazzo l'ha seguita, continuando ad importunarla. Poi sul lungomare avrebbe tentato l'approccio. La trentenne, sposata e madre di due bambini, ha immediatamente chiesto aiuto, telefonando ai carabinieri. Ad Ascea è arrivata la volante dei militari della compagnia di Vallo della Lucania, al comando del capitano Alessandro Starace. Il giovane pakistano si è rifugiato a casa, dove avrebbe raccontato l'accaduto di un suo connazionale. Tra i due è scaturita una furibonda lite. Per il quindicenne, subito identificato, è scattata la denuncia.